Se stai camminando ricordati che si involta, non aspettare lei, non permettergli di andare da una parte all'altra. Devi raggiungere qua e ce la fai perché l'hai fatto in poco tempo e poi fatto così questo. Su. Guarda. Non so quanti stanno tutte voi. Vai. Grazie. Grazie. Prima volta a Como. Bravo. Tieni la concentrata. Tieni la concentrata. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, ora va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. 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 Grazie a tutti.